Ciao bambini, sono la maestra Michela della Scuola Saprofuore di Pescara. Oggi con voi voglio preparare un gioco semplice e divertente da fare con tutta la famiglia in questi giorni in cui stiamo a casa. Allora, ci serve un coperchio di una scatola di scarpe, dei bicchieri di plastica, dei fogli di giornale, colla vinilica, tempere, porporina, colla a caldo da usare solo con i genitori, anzi fatela usare solo ai genitori, e una pallina. Allora, intanto iniziamo a... Diciamo Mattia, iniziamo a decorare la nostra scatola. Io l'ho dipinta in questa maniera, ma voi la potete fare come volete, con i colori a tampera, con i colori a spirito, con i pezzetti, come il più vi piace. Mentre si asciuga la nostra base, prendiamo il bicchiere di plastica e lo riempiamo, come stavo facendo, di colla vinilica e pezzetti di carta. Così, dopo, alla fine, quando tutto sarà asciutto, vedete? Li attacco e ci ripasco un pochino di colla vinilica, in maniera tale da renderli più robusti. E poi, una volta asciutti, li potremmo decorare come più ci piace. Per esempio, guardate, io ne ho fatto uno, dipinto, e ci ho attaccato uno sticker dei T-Rex, come piace a Mattia. Un altro, l'ho dipinto e ci ho attaccato tutte le forme geometriche, che ho ritagliato da un cartoncino. L'altro, invece, come piace più a noi che minucce, l'ho dipinto e ci ho messo un po' di porporina. Ok, ora con la nostra colla a caldo, mettiamo un pochino sulla nostra base e ci attacchiamo ai nostri bicchieri. Io ne ho fatti solo tre, bimbi, ma voi ne potete fare di più, dipende da che base avete. Una volta asciugata la nostra colla a caldo, siamo pronti per giocare. Perciò, guardate, io prendo la pallina, mi metto lontano, canestro! Ciao, bimbi, divertitevi!